L'abbandono illegale di rifiuti pericolosi è un reato penale contemplato dall'articolo 137 del decreto legislativo del 2006 che prevede l'arresto da sei mesi a due anni e con sanzioni che vanno da 3.000 a 30.000 euro. Ma questo sembra non aver affatto scoraggiato lo sciagurato che nella notte tra venerdì e sabato ha lasciato a Torrette di Fano lungo la strada di Mezzo una notevole quantità di ondulati di internet lungo il ciglio della strada. Ora tutti conosciamo la pericolosità dell'Eternit per la sua volatilità e per essere tristemente noto per il suo legame potenziale con un elemento cancerogeno per i nostri polmoni. Un vero e proprio atto criminale quindi quello di lasciarlo lì in bella vista a portata di mano di persone, bambini ed animali che ha subito però messo in allarme gli abitanti della zona. Sì beh non è certamente una cosa che si può lasciare così all'aperto, poi è proprio vicino al fosso che porta acqua al mare. Quindi quando abbiamo visto tutti ci siamo allarmati, io sono passato una mattina, la mattina dopo che praticamente l'hanno messo allora subito mi sono preoccupato di fare una foto e di mandarla alle porte di strada così anche per rendere... Già comunque erano stati avvisati anche altri quindi non è una cosa... Però purtroppo no, io so che qui dei vicini, dei residenti proprio hanno praticamente chiamato le autorità competenti almeno così mi hanno detto quindi noi speravamo che nel giro di poche ore lo portassero via perché se arriva una piovuta questo materiale scende nel fosso quindi è una cosa un po' pericolosa ecco sarebbe da fare abbastanza celermente questa cosa non da lasciarli lì qualche mese ecco. Osservando da vicino i rifiuti si comprende bene che sono il frutto di uno smaltimento dovuto ad una rimozione di una struttura, un capanno, una rimessa per piccoli lavori di manovalanza si nota anche ciò che rimane di un serbatoio di acqua fatto poi in sezioni ma di cui però rimane il grosso coperchio. Smaltire i rifiuti costa, forse è questa la ragione che induce a rischiare così un alto prezzo costa ma poi nemmeno tanto, 7 euro e 50 al metro quadro più o meno e per farlo però bisogna ricorrere a ditte specializzate e certificate compilare un po' di moduli e allora qualcuno per evitare queste scocciature preferisce fare il delinquente e buttarli lì di notte lungo la strada di tutti. Grazie